Nella giornata di ieri, il 18 agosto, è ricorso il decennale della scomparsa di Paolo Serra. Una giornata non certo come tutte le altre per Agropoli, una città che tanto l'ho amato, un affetto che lo stesso Serra ha ricambiato largamente con l'attività svolta nel corso di tutta la sua vita. Per molti anni nella città delfina ha esercitato una diffusa leadership politica, di indubbio prestigio. Laureato in lettere antiche e professore, Serra fu uno dei primi a credere di investire nelle televisioni locali, dato che fondò l'emittente televisiva Teleagropoli Cilento, giusto 40 anni fa, nel 1984, che ebbe successo e popolarità. A lui si deve anche la nascita dell'Istituto Nobel, attualmente in via al Cile dei Gasperi. Per due mandati fu sindaco di Agropoli, l'ultimo iniziò nel 1997 con la lista del Partito Popolare Italiano. Formazione politica che nacque dalle ceneri della democrazia cristiana, di cui fu esponente di spicco a livello provinciale e fu consigliere della stessa provincia. Serra proveniva dalla corrente politica della sinistra di base della DC, quella che a livello campano può vantare riferimenti come Ciriaco De Mita, ex segretario nazionale del Partito, dello scudo crociato e presidente del Consiglio dei Ministri. Proprio le elezioni politiche del 1994 sfiorò per pochi voti l'elezione alla Camera dei Deputati. Egli infatti fu candidato nel collegio uninominale Campania II con il Patto per l'Italia, coalizione centrista, costituita da Partito Popolare Italiano, Patto Segni, Partito Repubblicano Italiano, Unione Liberale Democratica e Indipendenti Socialisti e Socialdemocratici, nel collegio di Eboli, ottenendo il 21,8%, seggio che fu ottenuto da Franco Cardiello di Alleanza Nazionale. Un risultato che fu comunque di rilievo, dato che Serra si scontrava sia contro il centrodestra dell'eboca denominato Polo, sia contro il centrosinistra all'eboca Alleanza dei Progressisti. Da non dimenticare infine i suoi risultati alla presidenza dell'Unione Sportiva Agropoli 1921, la società calcistica campana con la matricola più antica della regione. Sotto la sua guida, anche se Serra poteva vantare in precedenza un passato da calciatore con la formazione cilentana, i Delfini sfiorarono la promozione in Serie C agli albori degli anni 90. Paolo Serra morì il 18 agosto 2014 a soli 65 anni, a causa di un male incurabile. Il premio Paolo Serra, lui dedicato, si è svolto pochi giorni fa nella cornice del Museo di Archeologia Industriale della Fornace ed è stato ideato da sua sorella Elvira, che ne raccoglie in realtà politica in Consiglio Comunale. Un premio che è stato istituzionalizzato già da diversi anni dal Comune di Agropoli e che quest'anno è stato assegnato ad Ermanno Corsi, giornalista e scrittore di lungo corso, per 18 anni anche presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania. Grazie. 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 Grazie.